Ciao a tutti e benvenuti su Nova Scream Io sono Nato X mentre oggi siamo tornati su FNAF World Ragazzi non perdiamo tempo perché io voglio assolutamente completare quella maledetta cosa Quella maledetta mappa sott'acqua Perché, cioè, ho perso perché non avevo capito come funzionavano i comandi Quindi io stavo pensando, visto che adesso più o meno ho capito come funzionano Noi non perdiamo tempo, andiamo direttamente verso quella mappa a cercare di completarla E poi magari vediamo se riusciamo anche a completare qualche altra cosa Perché tranne ovviamente questa qua dovrebbero esserci anche altre mappe, altri minigiochi I quali ci permetteranno di sbloccare altri personaggi Adesso io evito di prendere le botte, ok? Me ne vado qua per esempio Anzi no, prima mi serviva... non mi coprire per favore Questo gioco non doveva uscire prima del 2030, vabbè? Spara, vai, spara, spara, aspetto 10, vai Guarda che bastardo, aspetta finché non passo Ok ragazzi, stiamo andando molto meglio perché l'ultima volta stavo già a 60 di vita a questo punto Allora, adesso passiamo per di qua Facevo proprio una rasciata tutto quanto veloce Ok, adesso ci stava questo qua che ci aveva fatto un sacco di danni Cerchiamo di ammazzarlo adesso Vai, 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 ok, perfetto Ok, ok, bene Adesso prendiamo la vita e stiamo di nuovo a 95 di vita No, mi sta prendendo Fuck, fuck, ho perso tutta quanta la vita, maledizione Allora, allora, sei venuto qui per fermarmi? Sì, Scott, sono venuto qui per fermarti Però adesso aspetta un attimo che devo vincere Oddio, no, 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 no Sto prendendo botte una dopo l'altra Non è possibile Ah, non fermo, non smetterò mai di fare spin-off Ah, Dio mio ragazzi, questo gioco è complicato Vai, FNAF 57, Freddy nello spazio, l'abbiamo già letta questa cosa Adesso uccidiamo questo qua, vai Perfetto Due vite, ok, ci tornano utilissime Vai qua Vai qua Ok Ok Ultima, perfetto In quel momento FNAF 58 Puppets into space, non so ragazzi come tradurlo FNAF 59, Cupcake prende Manhattan, ok Allora, da quel che ho capito non bisogna per forza superarli questi Cioè ucciderli Basta che uccidiamo questo qua Quello è uno dei più importanti da uccidere Maledizione, sto prendendo botte 62 62 di vita Fuck Eh, vattene Ma guarda come mi segue Proprio bastardo Ok, uccidiamo questo Oh, mi ha dato buone la vita, perfetto Vattene Mamma mia, quanto è bastardo Ok, vita, 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 vita 56 Noi dovremmo andare qua a sinistra, no Era a destra l'ultima volta, mi ricordo No Oddio che culo, sono riuscito a saltarlo E qui sono morto l'ultima volta Vai Devo stare molto Attento Perfetto Non so, adesso mi arriva una di quelle bolle Mincavolo male Ok Dammi la vita Ok, perfetto Adesso Uno, due Le bolle bastarde, no Le bolle bastarde, no Oddio, no Va Lasciami Lasciami Ok No, stavo No, dove sto andando, maledizione Sto canendo Ed ora devo stare molto attento alle bolle Alle maledettissime bolle Vai, uccidi quello Uccidi pure questo qua Devo fare qualcosa Ma qua avevo già Il laser più forte, ragazzi Non è possibile Cosa sta succedendo qua? Fuck Ok Sono vivo Sono vivo per miracolo, ragazzi Non ci potrete mai credere, proprio Ok Venite qua, bastardi Venite Dai che vi aspetto Dai che vi aspetto Ok, esplodi Adesso tu Tu sei il prossimo Ok Vado qua Uccido quello No, no, no No, è un problema È un problema È un problema Via c'è, via c'è Dai, io ti aspetto Ok, tu adesso Dove devo andare Maledetto schifoso Jump Che cosa? Adesso posso saltare più in alto Che figata Allora, uccidiamo questo qua Prima di tutto No, sto prendendo le botte Ok No, no, no Sto prendendo tutte quante le botte del mondo Non è possibile No, fuck Mi sta seguendo quello Ok Mi sa che devo riuscire a passarlo in questo modo No, fuck Adesso devo andare per di qua Vediamo un attimo Mi sa che Come il prima Sono andato a sinistra Adesso Cioè a destra Adesso dovrò andare a sinistra Uccidiamo prima questa bolla Bastarda Perfetto Uccidiamo anche questa Perché lei se lo merita di morire Perfetto Mamma mia Mi stava andando addosso Adesso Tu Muori No Lasciami in pace Tu Devi morire Pure tu Maledetto schifoso Non mi toccherai Non mi avrai mai Vivo Ok La vita La vita La vita La vita La vita Fuck Ho perso Ok un'altra vita Perfetto 31 di nuovo Le bolle Sono le cose peggiori In questo gioco Ragazzi Non mi girare addosso Perfavore Ok Perfetto Uccido pure questo Ce la devo fare Ce la devo fare Ragazzi Guardate quante sono le bolle Maledizione Vai 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 Ok Anche questa Con calma Perfetto Ok Prendiamo anche quella Dai cerco di fare più roba possibile Ragazzi Devo vincerla Devo vincerla Assolutamente Ah Non mi andare addosso Ok Pure tu Pure tu Pure tu Mori Ok abbiamo preso un altro cupcake Ragazzi Abbiamo 31 di vita Siamo proprio al limite Adesso il nostro La nostra pistola La nostra cosa laser Spara di più Cioè spara cose più forti Se non sbaglio Perché cioè Sono più grandi E quindi sono più forti Suppongo Adesso Uccidiamo questo qua Se ce la facciamo Ovviamente Dove dobbiamo andare adesso Su Per caso No ho preso una botta Maledizione Tu Ok Tu sei esploso Tu invece mi vuoi morto A quanto pare Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua No Ok è venuto È venuto Ok Spara Spara 10 10 Ok 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 No ho preso una botta Fuck 31 18 di vita Scusate Wow Questo gioco è bastardo Non ce la farò mai a completarlo ragazzi Ne sono sicuro Non ce la farò mai Non è che devo tornare Per caso indietro Può essere che devo tornarmene indietro Oh Wow Ok ci sono quasi morto Vai Adesso Superiamo Superiamo questa cosa Ok Adesso dovrebbero morire molto più in fretta Sperando eh Vediamo se posso andare Dove posso andare Mi sa che Visto che abbiamo sbloccato il salto Io prima sono andato direttamente in basso Ma se me ne vado qua in alto no Se ce la faccio ovviamente Maledizione Non ce la farò mai Oddio Guardate ragazzi quanto faccio schifo ai platform Se poi io mi imparassi a saltare una volta ogni tanto Sarebbe una cosa fantastica Sbagliato 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 Vai indietro Credo che hai sbagliato qualcosa qua Mi sa che proprio dovevamo andare qua su eh Vediamo Ok Si è sbloccato qualcos'altro Cosa devo fare adesso No veramente Dovevi andare dall'altra parte Si Scott Non ti preoccupare Dovevo proprio andare dall'altra parte Va bene allora Vieni da me Ti aggiungo alla mia Distictiveness Non so che cos'è Però Ci aggiungo a fare qualcosa Ah adesso spariamo più in fretta Dai eh Adesso posso anche spammare tutto il tempo Mi sa eh E poi adesso gli distruggiamo in un corpo Perfetto Dai Dobbiamo distruggere quelli Che quelli sono i più bastardi Maledizione Guardatelo Sta lì Muori schifoso Muori Wow Oh l'abbiamo ucciso Ma non è Non era un boss quello Mamma mia Non ce la farò mai ragazzi Ok Cosa devo fare ancora Non posso distruggere quelli No Ok Ok Va bene Devo cercare di distruggere più roba possibile No 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 Ok Ok ci sto riuscendo 18 di vita ragazzi Non ci voglio credere Ci sto veramente riuscendo così a caso Uno e due Ancora Che cos'altro ci sta Ok No no è ancora lui È ancora lui Maledizione Vieni qua bastardo Cosa fai scappi Muori Ok Altra vita Perfetto Cos'è Cos'è quel coso Cos'è quel coso Maledizione Ma quanta vita Ma quanta vita Poca Vabbè Mi serve altra vita Ho soltanto 30 di vita Altri robbi qua Mamma mia quanti sono Mamma mia Ok Ce la sto facendo ragazzi Hanno un sacco di vita eh Non per dire niente Vai Almeno sono più facili di quell'altro coso Là Ok Ragazzi per me La cosa che mi ha dato più problemi di tutto qua Sono Innanzitutto il salto Perché non si capisce come si salta E poi le bolle Le bolle erano la cosa peggiore mi sa Ok Posso anche spammare tutto il tempo la X Mi trovo molto più facilitato diciamo Ok Vai Ce la sto facendo Ti metterò nel codice E ti userò Per qualcosa Non lo so Non mi coprire per favore Cos'è quello È Scott What the fuck No 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 Non sto capendo Cosa sei tu Oddio Oddio Cosa sta succedendo Ragazzi Sto per morire Sto per morire Maledizione Ah Che cavolo sta succedendo Fuck Muori Scott Muori Per favore Muori Muori 18 di vita Fuck Fuck 18 di vita Maledizione Sei di vita Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non so come ho fatto Ma ci sono riuscito Andiamo a cercare Magari un'altra mappa E vediamo se ce la facciamo A farla Abbiamo anche Nightmare Ballon Boy Questo portale Porta allo spin off Chiamato Foxy Fighters Il mio codice è stato Scomposto Mi sa Per Usarlo lì Non posso Aiutarti senza Va bene Andiamo a giocare A Foxy Fighters Mi sa che È tipo qualcosa Street Fighters No Cos'è allora Shoot Shift Che cosa Devi spegnere questo gioco Ha dato pure una voce a Coso A Freddy Cosa Che cosa è questa roba No Ragazzi Scott Is veramente superato Non so Che cavolo C'entra pure BB Oddio ragazzi È fantastico Va bene Abbiamo tutta quanta Una squadra Posso anche continuare A spammare lo Shift Tanto ormai Capita E questo è il trucco Di questo gioco Ragazzi Sinceramente Non ho voglia Di tradurlo Perché quella Parla E non mi riesco A concentrare Ragazzi Mi sa Che questo qua È uno dei personaggi Dei giochi Di Scott Cioè Uno dei suoi giochi Non saprei Che gioco è Perché non ci ho giocato A tutti Però È uno dei suoi giochi Suppongo Vediamo un attimo Intanto Non sembra essere Tanto difficile Questo livello Adesso speriamo che Non mi stia sbagliando Intanto ci stanno aiutando Tutti quanti Quindi non ci dovrebbe essere Nessun problema Credo Dov'è il boss Deve esserci per forza Adesso il boss Oddio tu che cosa sei Cosa vuoi da me Maledetto Questi coso Sparano e hanno anche Molta vita Maledizione Oddio ragazzi Non ci sto Ma se prendo questa roba Cambio arma E me lo dite adesso Questo è OP Quest'arma è OP Ma tipo posso starmene così E non mi fanno niente Ok Quest'arma è più forte Oddio Maledizione Guardate quanto sparano Ok Ok Questo là dovrebbe essere morto Perfetto Un'altra volta Ripetiti Sì che sono stanco Della tua voce Basta parlare Ma che cos'è Ma che cos'è Ma che cos'è Ragazzi Scott è un genio Non ho nient'altro da dirvi Basta Con questo gioco ha vinto Con questo gioco ha vinto Ecco il boss Vediamo se ce la faccio a batterlo Allora Credo che la tattica con lui Sarebbe sparare tutto il tempo Come abbiamo fatto finora Sinceramente Stai calmo là Cosa devo fare? Ho capito ma Non posso copirmi Se questi qua non mi aiutano Sparateli Per favore ammazzatelo Maledizione Sto prendendo tutte quante le botte Che si possono prendere ragazzi Ok Le sto prendendo tutte Veramente Prendi lui Ok Ok Ce la sto facendo Pure a lui Ok Però diciamo che sto sopravvivendo Più o meno Wow No Quello mi ha fatto male Ok Ok Più botte A quanto pare È difficile È difficile Cica aiutami Per favore Cica aiutami No No Giù Ok Adesso Ma quanta vita Maledizione Oh fuck Ok ce l'ho fatta Più o meno Ok No Mamma mia Impossibile Ma gli sta sciuttando What the fuck Perché gli si è tolto il bonus No Sta morendo anche lei Basta Cica Per favore Ok Sta cominciando ad esplodere Ragazzi Ok Non so Sto perdendo vita Così a caso Oddio Mamma mia Quante botte che mi ha dato Prendo quello Che cos'è Ok Più botte Più botte Perfetto No Ok Sono riuscito a sopravvivere Maledizione Guardate quanti colpi Dai per favore Muori bastardo Ok No Fuck Sto prendendo tutti i missi Ragazzi I missi li sto prendendo tutti Non è possibile Wow Non mi sto ponendo Sto morendo Sto morendo Ok Impossibile L'abbiamo battuto Non hai visto l'ultimo di me Oddio Non è che adesso si evolve ancora Succede qualcosa Per favore No Non ti evolvere Ah oppure Non è ancora finita Mi sa che come tutti quanti i boss fanno Non è ancora finita Mi rivedrai Che figata la voce di Foxy però Sinceramente Ok usciamo di qui Andiamo via Wow Questa Ragazzi Questo gioco Mi è piaciuto un sacco Rango C C di Che Gran gameplay Più o meno Vabbè ragazzi Io credo che per questo episodio Possiamo anche finire qui Nel prossimo episodio Vedremo Perché ho visto che mancano ancora un paio di cose E manca anche il boss finale Quindi nel prossimo episodio Faremo anche altri Personaggi Perché ci mancano altri 5 personaggi Credo Però non so come sboccare la macchinetta del caffè Sinceramente Oppure Purple Guy Concurate ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Dato una zampazzo Mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao E noi ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti.